Dal momento che questo sistema può crearsi dal nulla tutto il denaro che vuole, vi siete mai posti la domanda del perché li vuole indietro da voi? Cosa se ne fa? È una questione di inflazione, di deflazione, di tasse, di fondi necessari per pagare bene i servizi? O è altro? Perché un sistema che può permettersi il lusso di creare tutto il denaro necessario che gli occorre ha bisogno di distribuire prima e chiedere indietro poi il vostro denaro? Ponetevelo a questa domanda. Perché è palese che si tratta di un sistema che vuole tenervi in una condizione di perenne schiavitù. Perché tutti i brevetti della free energy, quella vera, non parlo dell'eolico o del fotovoltaico, esistente ormai da decenni, da svariati decenni, decenni, viene occultata? Perché se fosse disponibile al pubblico, anche in questo caso, cesserebbe la condizione di perenne schiavitù. Ma la stragrande maggioranza della gente preferisce continuare ad alimentare questo sistema che la pone appunto perennemente, quotidianamente, in eterno, in stato di schiavitù. Buona giornata.